aspetta un attimo dai è finita dai 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 bellissimo dai dai ci siamo dai è finita finita chi fruste dai dai l'ultimo sprint dai l'ultimo sprint dai l'ultimo sprint dai l'ultimo sprint forza Claudio Correzza è il mio dottore ma buonissimo forza Claudio bravissimo Claudio ciao Claudio dai 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 è finita forza dai dai ci siamo bella voce un bel ristoro e prima azione a seguire dai è finita dai 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 no devo arrivare a quello l'ambulanza ok ok per esempio dai 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 finita dai finita dai dai finita maurizio maurizio dai è finita dai è finita dai dai 21 sprint 20 metri 15 metri 20 metri senza peccarale di là bravo di là dai è finita questa macchina dove va questa macchina aspetta un attimo dove vai dove vai dai dai è finita dai è finita dai è finita dai ora non puoi entrare ma te che hai fatto aspetta 100 minuti ti faccio passare 100 minuti 100 minuti ti faccio passare Paolo 4 ore all'imbuto grande non è stato passare la macchina dai è finita dai 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 è finita dai dai è finita dai è finita dai è finita eh no ormai no siamo fino a pieno davvero è vivo qua dì sì sì dìglielo le bocce giù lì le bocce giù sulla destra facciamo la doccia insieme bene e all'interno metto il calcello sulla destra dentro il calivario sulla destra mi danno un braccioletto e una nuova bocca il patto car lo ritirate e dopo ci avete fatto l'iscrizione consegnate il tagliandino e vi daranno il patto car si grazie dai, è finita dai, dai dai, si fa il piano piano vai, vai eccolo dai, dai, è finita dai, dai, è finita no, dai, si fa piano piano si fa tutti, dai ora venga a tutti dai, è finita, dai attenzione ci siamo via dai, dai, dai dai, Germana dai, dai, dai Germana Camone dai arrivata arrivata anche lei dai, siamo arrivati il burgo il burgo il burgo il burgo il burgo bravissimo 38 38 38 c'è un buon salto c'è un buon salto da spettare Grazie a tutti.